Un grande spettacolo sportivo, dal 17 gennaio campionati europei di pattinaggio artistico Musica, ritmo, colore, le donne più belle del mondo, a febbraio il carnevale di Rio A come amore, a come amicizia, a come attrazione, da marzo a come eros Pomeriggio al cinema, scegli il tuo film dal lunedì al venerdì alle 16 Musica